Cos'è il Club Eagle Rider? Club Eagle Rider è il primo servizio di abbonamento per motociclisti che ti permette di guidare una nuova moto ogni mese per soli 29 euro al mese. I membri possono scegliere tra quattro piani che variano in base alla quantità di crediti che ricevi mensilmente per adattarsi al meglio alle tue preferenze di guida. Da un credito al mese a 10 crediti al mese con l'iscrizione RAID10. I crediti accumulati possono essere utilizzati per noleggiare la tua moto risparmiando in media il 50-70% sulla tariffa di noleggio. Probabilmente ti starai chiedendo cosa sono i crediti. I crediti sono solo crediti. Considerali come i gettoni di un gioco. Un gettone ti dà accesso a un gioco per una sola volta prima di dover inserire altri gettoni per continuare a giocare. Alcuni giochi costano solo un gettone e altri più di uno. La nostra iscrizione funziona esattamente così. I crediti ti danno accesso alla nostra flotta di moto che variano in base al numero di crediti necessari per noleggiare quel modello specifico. Ad esempio, una Yamaha XSR900 o una R3 nuove di zecca possono essere noleggiate con un solo credito al giorno. Quindi, se hai accumulato crediti negli ultimi sei mesi, puoi noleggiare quella moto per sei giorni per un credito al giorno. Forse ti piacerebbe guidare una Harley Davidson, come la famosa Street Glide. Le Street Glide costano tre crediti al giorno, quindi con quei sei crediti potrai noleggiare la Street Glide per due giorni. Vuoi fare un giro più lungo di quello consentito dai tuoi crediti? Tutti i soci del club risparmiano il 20% sul noleggio quando non utilizzano i crediti, quindi il risparmio non finisce mai. Ora che hai capito cosa sono i crediti e come utilizzarli, dove e su cosa puoi usarli? Attualmente Eagle Rider ha oltre 76 di plus in tutto il mondo, dove i soci del club possono riscattare i loro crediti per le moto. Dalla California alla Florida, dalla Grecia al Messico, dall'Italia alla Spagna e molti altri paesi ancora. I soci del club possono viaggiare in tutto il mondo su due ruote più facilmente che mai. Sebbene i soci del club non possano riscattare i loro crediti in tutti i punti Eagle Rider, stiamo lavorando sodo per far aderire al programma Club Eagle Rider un numero sempre maggiore di punti. I soci del club possono utilizzare i loro crediti su qualsiasi moto disponibile presso le sedi del club, dalle Harley alle Yamaha, BMW, Triumph, Honda e altro ancora. Le moto disponibili variano da una sede all'altra in base a ciò che ciascuna sede ha a disposizione. Confronto dei costi I soci del club possono risparmiare fino al 78% sui prezzi finali. Ad esempio, un normale cliente pagherebbe 232 euro per un noleggio di un giorno di una Harley Davidson Softail, mentre i membri del club pagano solo 87 euro per la stessa moto. Tasse e spese sono extra e variano a seconda del luogo di ritiro. Quali altri vantaggi hanno i soci del club Eagle Rider? Da 12 a 120 crediti di noleggio all'anno a seconda del piano scelto. I crediti possono essere conservati per un massimo di 18 mesi. 20% di sconto sui giorni di noleggio aggiuntivi. Accesso a una flotta di oltre 4.000 moto in tutto il mondo. Inviti a eventi e corse esclusive del club. Area check-in VIP presso le sedi selezionate del club Eagle Rider. Sconti sull'abbigliamento Eagle Rider. Risparmi a un ulteriore 14% pagando l'iscrizione in un'unica soluzione. Iscriviti oggi e il primo mese riceverai 3 crediti bonus. Sono sufficienti per noleggiare una moto per un massimo di 4 giorni a seconda del modello o dei modelli che scegli. Quando ti iscrivi, usa il codice CLUB3. Non rispandola che besta ci formali online. Grazie a tutti. No! 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 Grazie per la visione!